Molti di voi mi conoscono già, sanno che sono un patito di wearables ed essendo un patito di wearables mi ha sempre attirato molto quello che è l'Active Pop di Weed Inks dispositivo carino ma che effettivamente non porta a nulla di particolarmente interessante è quello che può sembrare un orologio analogico di qualsiasi genere ma in realtà al suo interno ha un cuore smart, ossia ha una sveglia integrata che vibra e ci permetterà di svegliarci senza un rumore fastidioso e ha un contapassi e un activity tracker veramente molto preciso e che si comporta molto molto bene mi è piaciuto molto questo dispositivo perché unisce quello che è lo smart con il classico e il tendente elegante e lo fa veramente in maniera egregia andiamo a vedere insieme l'applicazione, come funziona e come si interfaccia questo dispositivo con il nostro Android o iOS che sia eccoci qui con l'Active Pop di Weed Inks dispositivo che ricorda molto quello che è un orologio analogico ma portando del digitale perché nell'anima c'è lo smart abbiamo quindi una pila che è nascosta esattamente qua dietro una pila che dovrebbe permetterci l'utilizzo di circa 6 mesi del dispositivo dopo di che andremo a cambiare la pila e ad acquistare un'altra pila e a sostituirla il dispositivo devo dire si comporta veramente molto molto bene l'orologio è molto preciso, il contapassi è esattamente questa ghiera che va da 0 a 100 ghiera che va da 0 a 100 in base all'obiettivo che imposteremo noi dall'applicazione io per esempio ho 10.000 passi quindi in questo momento avrò circa 5.200 passi come funziona il dispositivo? il dispositivo si sincronizza tranquillamente tramite l'applicazione di Weed Inks applicazione che potrete scaricare sia su Android che su iOS tra l'altro l'applicazione è integrata anche il 3D Touch quindi avrà qualche applicazione in più ossia tenendo premuto andremo a visualizzare quello che è il nostro totale passi giornaliero il nostro peso e l'andamento della giornata ma l'applicazione in sé è la stessa quindi qui avremo quanti passi abbiamo effettuato fino ad adesso la percentuale da noi fatta e poi qui avremo una soglia temporale in cui ci dirà giorno per giorno quello che abbiamo fatto ed entrando per esempio nella dormita dell'altro ieri 6 ore 22 ci dice il tempo di sonno leggero il tempo quante volte ci siamo alzati e il tempo di sonno profondo mentre se entriamo nei passi ci dice quanti passi abbiamo fatto quanti chilometri di distanza quante calorie in attivo e quante calorie in totale calorie questa secondo me è l'unica cosa che è leggermente sballata in quanto dice che abbiamo consumato 2461 calorie sinceramente sono effettivamente troppe e poi qua ci dice i vari chilometri che abbiamo fatto a step nelle nostre camminate anche qua non è molto precisa come cosa in quanto vedete qua dice che abbiamo fatto circa 2,4 km di camminate e poi qua ci dice 6,6 km quindi anche qua da rivedere in realtà queste dovrebbero essere solo le camminate quelle un po' più movimentate che rileva invece come attività fisica per quanto riguarda poi la timeline possiamo scorrere qua in alto andare quindi nella sveglia impostare la sveglia sia per giorni che per ora e poi di qua mettiamo il nostro peso e la tendenza quindi se abbiamo anche la bilancia Weedings potremmo andare a visualizzare il grafico in cui andremo a vedere il nostro andamento di peso quindi quanto abbiamo perso e quanto abbiamo guadagnato inoltre abbiamo la dashboard in cui ci sono tutto ciò che abbiamo fatto oggi poi abbiamo la classifica quindi se abbiamo altre persone con Weedings possiamo vedere chi si comporta meglio a livello di camminate e poi il nostro profilo in cui andremo a mettere tutti i nostri dati a sincronizzare con Google Fit o con salute di iOS questa è praticamente l'applicazione che si utilizza insieme al nostro orologio orologio che devo dire ha una vibrazione veramente molto bella quindi da usare come sveglia l'ho trovato molto piacevole ha un cinturino in plastica veramente ben realizzato la comodità al polso è ottima anche dato le dimensioni non troppo eccessive devo dire che nel complesso mi è piaciuto veramente molto da utilizzare più che altro come orologio per fare sport in quanto anche oltre ad avere una cassa in stainless steel ha anche la possibilità di essere waterproof fino a 5 atmosfere quindi potrete andare a nuotare potrete andare a fare tutto quello che fate quotidianamente senza andare a rimuovere questo orologio molto resistente il vetro non mi sia mai graffiato nonostante per esempio abbia anche smontato un cassone delle tapparelle attaccato una tapparella ai ganci che si era sganciata e più di una volta mi è capitato di magari sbattacchiarlo da qualche parte e non si è fatto né un graffio sul vetro né un graffio sulla cornice il prezzo è di circa 150 euro troverete il link per l'acquisto in descrizione devo dire che nel complesso mi è piaciuto molto ovviamente non notifica le notifiche che ci arrivano sul dispositivo e si connetterà al dispositivo solo quando andremo ad aprire l'applicazione in modo da non continuare a connettersi a scaricare la batteria sia del dispositivo Active Pop di Weedings sia del nostro smartphone che stiamo sincronizzando con il nostro orologio bene quindi non posso consigliarvi l'acquisto di questo orologio se state cercando un orologio sempre analogico dal punto di vista del design ma che dentro integri qualcosa in più qualcosa che ci porti ad utilizzare il dispositivo anche come contapassi monitoraggio attività sonno e anche attività fisica in cui potremo anche inserire all'interno dell'applicazione nel caso di cui faremo altro e gestisce anche l'attività fisica tra le quali il nuoto cosa che ho trovato veramente utile dato che mi capita di andare a nuoto e fino ad oggi nessuno ancora riusciva a monitorare questa attività bene come il Weedings bene a questo punto penso di aver detto veramente tutto fatemi sapere se lo avete già acquistato se lo acquisterete dato che è un dispositivo che ormai è uscito da un po' sul mercato a me è piaciuto molto e mi è spiegciuto non acquistarlo prima ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hightech